Pronti? Uno, due, tre. Buono il primo segnale. È subito Avenue Lavarenva a chiedere strada mentre rompe a reta Francis. Un po' di scompiglio lì di dietro, poi vediamo Aldebaran che si getta di galoppo nel tentativo di corvergere, quindi seconda posizione ci sembra Antoniano. Numero 5 Aldebaran squalificato. Poi è partito bene dalla seconda fila, dal numero 6 Axis di Girifalco che va in terza posizione davanti Attalo, di fuori è Amelie Pan con in schiena Alaska Gams. 400 in 29,7 con partenza da fermo, con in vantaggio la figlia di Varen, con Antonio Di Nardo. Sempre Antoniano in seconda posizione alla corda, precedere Axis di Girifalco e Attalo, mentre il treno esterno è composto da Amelie Pan e Alaska Gams. 600 va in via in 45,4, sempre Avenue Lavarenva a condurre davanti ad Antoniano, poi Amelie Pan gradualmente avvicina Antoniano. Retta di line 14,8, il primo giro in poco più di un minuto. Siamo sulla curva con sempre in vantaggio Avenue Lavarenva, c'è l'errore di Amelie Pan che lascia quindi scoperta a largo. 4,4, Amelie Pan squalificato. La cui schiena viene presa al chilometro da Attalo. 1,15,1 il primo chilometro con sempre Avenue Lavarenva in vantaggio su Antoniano, poi Alaska Gams pedinata da Attalo lungo la corda Axis di Girifalco, poi Amaric Clemar retta qui davanti alle tribune in 14 secco con Avenue Lavarenva che prende vantaggio da Antoniano che stenta a tenere contatto. Ora Alaska Gams può respirare nella sua scia, poi vediamo Attalo in quarta posizione che cerca di scavalcare Antoniano. Curva passata in 14,4 con Avenue Lavarenva sempre in vantaggio su Alaska Gams, poi Antoniano in leggera difficoltà affiancato da Attalo. Siamo a 450 metri dalla conclusione, le due piattese Avenue Lavarenva e Alaska Gams in vantaggio, poi gli altri 14,8 la retta di là con Avenue Lavarenva ancora in vantaggio davanti a Alaska Gams, Attalo che scende alla corda ma avanza anche Axis di Girifalco poco più di 200 metri alla fine con in vantaggio Avenue Lavarenva attaccata da Alaska Gams, ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo sono un po' stanche le due femmine ma Alaska Gams sembra avere energie migliori, Alaska Gams prende vantaggio e viene a vincere davanti a Avenue Lavarenva e Axis di Girifalco molto vicini al quarto posto Attalo, 14,8 la retta d'arrivo, 1,14,4 la media al chilometro, ricordiamo partenza a 20 metri sui 2.000 per la figlia di Marajai che regala il doppio ad Alessandro Gocciadoro e viene a vincere battendo Avenue Lavarenva e rivediamo la lotta per il secondo posto perché erano molto vicini a Avenue Lavarenva e Axis di Girifalco mentre nettamente prima Alaska Gams, Alessandro Gocciadoro mentre per il secondo probabilmente Axis di Girifalco batte Avenue Lavarenva e quarto Attalo. Grazie 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 Grazie